Per esercitarci oggi ho scelto una versione di Luciano tratta dal Nigrino, i paragrafi 12-14, sulla condotta di vita apprezzata dagli Atenesi. Dunque ho messo fra parentesi la spiegazione, l'autore sta riferendo ad un amico dell'incontro con il filosofo Nigrino. E meno che ton logon epeinos en elados caiton ascenez in antropon, oti filosofia caipenia siuntro foieisin, cai ut ton astone, ut ton xenon, ut enater puntaiorontes, os antrufen eis aegein eis autus biasetai, alla eicaitis affichetai parautus ut diaceimenos eremate mesarmottusi, cai parapaidagogusi, cai prosto cazzaron tesse diai, tesse mezistasin. Siamo al punto, quindi possiamo subito sottolineare i verbi. Il primo è en, indicativo imperfetto terza persona singolare del verbo essere, eisin, indicativo presente terza persona plurale del verbo essere, terpontai è l'indicativo presente terza persona plurale medio passivo di terpon, orontes è un participio presente del verbo rao, ed è un nominativo maschile plurale, poi abbiamo eis agen che è l'infinito presente attivo del verbo eis ago, poi abbiamo biasetai che invece è il congiuntivo presente terza persona singolare medio passivo del verbo biazo, poi abbiamo affichetai che è il congiuntivo auristo del verbo aficneo mai terza persona singolare, diaceimenos, il participio presente del verbo diace mai, nominativo maschile singolare, mezzarmottusi che è un indicativo presente terza persona plurale attivo di mezzarmotto, poi abbiamo parapaidagogusi che è un indicativo presente di un verbo contratto, parapaidagogheo, e poi mezzistanzin che è un indicativo presente terza persona plurale attivo del verbo mezzistemi. Quindi andiamo alla ricerca di elementi che ci facciano parlare di subordinazione, sicuramente vedo prima di tutto otti, lo ingrandisco e lo evidenzio, ci viene subito in mente che otti può essere sia una congiunzione causale che una congiunzione dichiarativa, non dobbiamo dimenticare che otti potrebbe essere anche la grafia attaccata del pronome neutro ostis etis otti, non è detto che qui lo sia, ma nel nostro cassetto della memoria la cosa deve essere presente. Poi abbiamo os, che è un pronome relativo, nominativo maschile singolare, poi abbiamo ei, anzi possiamo fare anche ei-cai, perché ei-cai ci ricorda subito una congiunzione, ho ingrandito un po' troppo, una congiunzione di tipo concessivo, e poi direi che basti. Ecco, questi sono gli elementi subordinanti di questo lungo periodo. Proviamo a cominciare a tradurre, e menarchè il principio tonlogon dei discorsi, quindi abbiamo detto che il nostro Luciano sta riferendo ad un amico della conversazione avuta con Migrino, ed ecco perché ha detto il principio dei nostri discorsi sarebbe era l'elogio della Grecia, forse in italiano, è meglio dire fu, l'elogio della Grecia, e non solo della Grecia, è anche ton, anzropon, e degli uomini, e in mezzo vediamo che azènesin è in posizione attributiva fra ton e anzropon. azènesin vuol dire ad Atene, quindi sarebbe per gli uomini ad Atene, quindi o mettiamo degli uomini che vivono ad Atene, oppure degli uomini atenesi. In ogni caso l'importante è che azènesin rimanga fra ton e anzropon, cioè si noti che sia una posizione attributiva, e non lo si sposti che so qui, oppure qui, oppure qui, come spesso si fa nella traduzione. Erroneamente, intendo. Allora, e quindi fu l'elogio della Grecia e degli uomini atenesi, è chiaro, è chiaro subito il valore di questo otti, perché ci viene subito da chiedere perché, perché ha elogiato la Grecia e gli uomini atenesi, quindi otti, poiché, sono siuntrofai, sono, siuntrofai vuol dire allevate insieme, quindi sono allevati, filosofia, nella filosofia, e nella penia, quindi, e nella povertà, cai, abbiamo questo ute-ute, ecco, anche queste interne correlazioni vanno naturalmente segnalate, sono due congiunzioni coordinanti negative, quindi ricordiamoci in italiano di collocare le negazioni al punto giusto, in italiano attacchiamo la negazione, l'avverbo negativo al verbo, quindi dobbiamo dire, e non terpontai, ecco, e non si compiacciano, terpontai vuole il participio predicativo, che è subito qui presente vicino, quindi è anche facile da individuare, e non si compiacciano di vedere, utena alcuno, quindi sarebbe nessuno, ma in italiano a questo punto sta meglio dire, non si compiacciano di vedere alcuni, alcuno, utetonaston, né dei cittadini, utetonxemon, utetonxemon, né degli stranieri, alcuno che, alcuno os, notiamo la presenza di questo an, però questo an, vedi quindi il mio video su tutti i valori di an, qua la collocazione è molto semplice, si trova dopo un pronome relativo, all'interno di una relativa, accompagnato da un congiuntivo che è biazeta, non può essere altro che la particella che conferisce un valore eventuale alla frase, quindi che nella traduzione basta mettere un congiuntivo, quindi che biazo, biazo tai, insomma vuol dire sforzarsi, biazo mai vuol dire mi sforzo, quindi che si sforzi, ecco, che si sforzi di eisagen, di introdurre, truffen, illusso, eisautus, tra di loro, tra loro, alla, ma, eikai, anche se tis è un pronome indefinito, uno, qualcuno, affichetai, giunga, quindi, anche qua sta bene tradurre con un congiuntivo, che anche in greco poi è un congiuntivo, quindi sta benissimo, ma se qualcuno giunga, para utus, presso di loro, utodiacheimnos, cioè, così predisposto, così, così disposto, ecco, mezzarmottusin, abbiamo tete, direi di non appesantire troppo, dicendo sia, sia, che in italiano è sempre un po' pesante, comunque sarebbe sia, lo mezzarmottusi, lo trasformano, ierema è un avverbio, che vuol dire dolcemente, a poco a poco, gradualmente, quindi sia lo trasformano dolcemente, sia lo ammestrano, para paidagogusi, lo ammestrano, sia lo mesistasin, lo rivolgono, prosto cazzanonne, cazzanonne è un aggettivo neutro sostantivato, e sarebbe, vuol dire puro, quindi sarebbe verso la purezza, e tese diaites, sarebbe della vita, del modo di vivere, la diaita, da cui deriva poi la nostra parola dieta, vuol dire stile di vita, modo di vita. Quindi, ricapitolando, l'inizio, il principio dei nostri discorsi, non c'è i nostri, ma sta bene in italiano, fu l'elogio della Grecia, e degli uomini che vivono in Atene, perché sono allevati nella filosofia, e nella povertà, e non si compiacciano di vedere, alcuno, né dei cittadini, né degli stranieri, che, che, si sforzi, di introdurre il lusso, tra di loro, ma, anche se, qualcuno, giunga presso di loro, così disposto, messar motosi, lo trasformano dolcemente, e lo amaestrano, e, anche un cavati, sottolineare, di evidenziare, il verde, il terzo cai, e lo rivolgono, alla purezza, della vita, del modo di vivere, quindi, e un emeto, gun, tinos, ton, poliucruson, os elson, assenase, male pisemos, cai, forticosse, aqueluzon, ocleo, cai poichiles, deti, cai cruzo autos, men oeto, selotos, e in i pasi, toisse, assenaios, cai, os an, eudaimon, apo blequestai, c'è il punto in alto, quindi, possiamo fermarci qua, i verbi, ememneto, ememneto, viene da, mimnesco, ed è, un indicativo, più che perfetto, del verbo, mimnesco, terza persona singolare, poi abbiamo, elson, participio dell'auristo, nominativo, maschile singolare, di ercome, abbiamo poi, oeto, che è, un indicativo, imperfetto, terza persona singolare, di oiomel, e ne è, l'infinito presente, del verbo, essere, e poi, apo blequestai, è un infinito presente, medio passivo, del verbo, apo bleppo, bene, allora, vediamo subito, osserviamo subito, la, ecco, sì, se ci sono degli elementi subordinanti, individuo subito os, che è un pronome relativo, quindi da qui comincia una relativa, poi, vedo un infinito, che sicuramente ci fa pensare ad una infinitiva, vedo poi l'os, os, prima os, era un pronome relativo con l'omicron, questo invece è la congiunzione particella, adesso vedremo di che cosa si tratta, os, comunque, innanzitutto la osserviamo, poi andiamo con la memoria, a tutti i valori di os, che comunque io ho già spiegato nel mio video, vedo lì vicino anche an, e quindi abbiamo le due particelle multifunzionali inserite una accanto all'altra, e si tratterà poi con calma di districare il nodo e di vedere di che cosa si tratta. Bene, e memneto dunque sappiamo che il più che perfetto del verbo minnesco è un più che perfetto logico, cioè si traduce con un imperfetto, così come il perfetto memne mai si traduce con un presente, quindi memneto lo traduciamo con ricordava. Il soggetto sottinteso è il filosofo con cui Luciano sta parlando, quindi ricordava dunque, tinosse, i verbi di memoria vogliono, o di dimenticanza, è il loro opposto, vogliono il genitivo, quindi ricordava dunque, uno, degli, poliucruson vuol dire molto ricchi, quindi degli straricchi, os, il quale, el son, essetto giunto, azenese, è un verbo di molto luogo, ad Atene, male, epismos vuol dire molto vistoso, molto insigne, che si faceva molto notare, insigne ovviamente in senso spregiativo, in senso etimologico e spregiativo, che l'italiano poi ha perso, perché per noi insigne vuol dire illustre, ma originariamente vuol dire la persona che si segnala, la persona che si segnala lo può fare sia in senso positivo che in senso negativo, quindi siccome insigne in italiano ha mantenuto la sua valenza solo positiva, è meglio che diciamo molto vistoso, ecco perché sicuramente deve avere una valenza negativa. Forti cose è un aggettivo che andiamo a vedere nel dizionario di greco, vuol dire sia pesante, gravoso, carico, scomodo, che anche in etto, rozzo, mile, volgare, comune, sconveniente, quindi è chiaro che qui ha entrambi i valori, sia quello di carico di una oclo, di una schiera di accompagnatori, di una folla di accompagnatori, sia anche grezzo con la sua schiera di accompagnatori, quindi molto vistoso e possiamo dire carico, pieno di una folla di accompagnatori, oppure grezzo con la sua folla di accompagnatori, in una veste estetia e un dativo, quindi con una veste poichile, vuol dire variopinta, e con oro, ecco, oeto, abbiamo detto essere l'imperfetto del verbo oio, ma che vuol dire ritenere, quindi riteneva di essere, ecco qua l'infinitiva, di essere autos egli stesso, ricordiamoci i valori di autos, qui al valore di ipse, riteneva di essere egli stesso, selotos, invidiabile, invidiabile, tasi, tois, azionai, oes, a tutti gli atenesi, cai, e di, e abbiamo un altro infinito, dunque c'è un cai, segnaliamo la presenza del cai, per risolvere il valore di questa vicinanza di os e di an, procediamo per gradi, innanzitutto vedo che c'è un cai, e subito dopo c'è un altro infinito, un infinito che evidentemente ha lo stesso valore di einai, perché ricordiamoci che cai è una congiunzione coordinante, che collega due cose dello stesso tipo, quindi einai cai apoglèpestai, quindi riteneva di essere invidiabile a tutti gli atenesi, e di essere, possiamo subito dire, e di essere visto, di essere guardato, di essere osservato, a questo punto dobbiamo risolvere osan eudaimon, dove si avverte l'assenza di un verbo, quantomeno del verbo essere, e allora dopo la traduzione viene facile, come se fosse felice, questa è la traduzione di essere osservato, come se fosse felice. Allora fermiamoci qua, i verbi sono diustuchein, che è un infinito presente attivo del verbo diustucheo, edokei, che è un indicativo imperfetto dal verbo tocheo, terza persona singolare, paideuin, infinito presente di paideuo, epecheion, che è un indicativo imperfetto, terza persona plurale di epicheireo, poi abbiamo, ah, lo devo segnare, apagoreguo, anteesse un participio presente di apagoreguo, nominativo maschile plurale, buletai, indicativo presente, terza persona singolare di bulamai, e biun è un infinito presente del verbo bio. Vediamo se ci sono elementi subordinanti, non vedo nulla, se non, ecco, paideuain, non l'avevo segnato, se non degli infiniti, diustuchein, che evidentemente è retto da edokei, paideuain, che evidentemente è retto da epecheiron, che non avevo segnato, e un elemento subordinante è sicuramente ontina, ontina, beh, posso mettere a cazzo ontina, perché è preceduto dalla preposizione katà, ontina, bene, è l'accusativo maschile singolare di, del pronome relativamente definito, ostis, quindi, da lì sicuramente comincia, una frase di tipo, appunto, relativo, relativamente finito. Bene, allora, comincio a tradurre, toys day, quindi, nella frase precedente, si era detto che lui pensava di essere felice e invidiabile, toys day, quindi il day ha sicuramente un valore avversativo, perché adesso passiamo invece al punto di vista degli atenesi, invece toys, invece a loro, a loro atenesi, invece, a loro, to anstropion, l'omiciatolo, è una parola deformata da anstropos, con evidente valore splegiativo, quindi l'omiciatolo, ed ok, sembrava, diustukain, essere infelice, essere un disgraziato, e epkeirun, e si accingevano, ma qui sta meglio la traduzione col passato remoto, e si accinsero ad paidewain, ad ammaestrarlo, ad educarlo, ecco, upicros, quindi non duramente, quindi non con severità, ne, apagorevontes, apagorevo vuol dire vietare, quindi ne vietandogli, anticrus, senza riguardi, è un avverbio, ne vietandogli senza riguardi, dunque notiamo che qua c'è il me, perché con i verba vetandi, quindi con i verbi che indicano divieto, ci vuole il me, noi diciamo però di, ne vietandogli di vivere, ecco il me lo traduciamo col di, quindi ne vietandogli di vivere, cazontina tropon buleitai, in qualunque modo volesse, in en eleusera te polei, nella libera città, nella libera città di Atene, ostec, tamicron, esofroniste, cai parapaliubeltion, apelze, demosia, pepaideumenos, fermiamoci qui, allora i verbi sono esofroniste, che è un, lo segno, ecco, è un indicativo dell'auristo passivo di soffronizzo, terza persona singolare, poi abbiamo apelze, che è un indicativo dell'auristo attivo di apercomai, terza persona singolare, e pepaideumenos è il participio del perfetto, del verbo paideuo, nominativo maschile singolare, di, dunque, elemento subordinante, riconosco soltanto oste, che effettivamente è una congiunzione di tipo consecutivo, del resto il periodo precedente era finito con un ponte virgola, quindi va bene anche introdurlo qui con un cosicché, catamicron, vuol dire a poco a poco, esofroniste, cioè fu fatto rinsavire, quindi rinsavì, cai pepaideumenos è educato, quindi ha maestrato, ma il maestrato sa più da scimmia, diciamo è educato, de musia pubblicamente, apelze, se ne ritornò, se ne ritornò dove, se ne ritornò ovviamente da dove era venuto, quindi se ne ritornò in patria, poliubeltion è molto, para poliubeltion sì, molto migliore, quindi molto migliore di prima, di quando era arrivato, quindi se ne ritornò in patria, molto migliore. c'è un punto in alto, quindi fermiamoci. allora vedo un aischiunontai, che è un indicativo presente, terza persona plurale di aischiunomai, omologuntes, che è un participio presente, da omologheo, nominativo maschile plurale, ancora memneto, che abbiamo già visto essere, il più che perfetto indicativo, del verbo mimnesco, poi accusai, infinito dell'auristo, del verbo attivo, del verbo apuo, efek, che vuol dire disse, poi proemenon, che è un participio del perfetto, da proiemi, ed è un genitivo maschile plurale, oppure genitivo neutro plurale, non lo sappiamo, bisogna vedere cosa c'è, e poi direi basta. Cosa riconosco di subordinante? Beh, di subordinante riconosco oti, che è una congiunzione o causale, o dichiarativa, l'abbiamo già detto prima, poi aischiunontai, no, n, ecco, n, è un pronome relativo, accusativo, femminile, singolare, e poi abbiamo degli, un infinito, che naturalmente ci porta a dire, che ci sia un infinitiva, da qualche parte, e poi direi basta, quindi n, anche lo sottolineo, quindi sicuramente, abbiamo due subordinate, allora, vedremo poi, quale sarà la principale, quindi, oti, allora, proviamo con il fatto che, il fatto che, quindi oti, il fatto che non si vergognano di, aischiunomei è uno dei verbi che vogliono il participio predicativo, quindi il fatto che non si vergognano di, omologuntes, è di ammettere, pi, panian, la povertà, cioè, non si vergognano di confessare, di essere poveri, mi, cioè, lui, sempre, il soggetto parlante, la persona loquens, ricordava, a me, quindi mi ricordava, di una, di una, di una voce, di una voce, n, che, f, diceva, accusai di aver ascoltato, letteralmente sarebbe, panton è il genitivo della persona da cui si ascolta la voce, perché i verbi di percezione funzionano così, quindi, di aver ascoltato da tutti, pro e menon, che l'avevano lanciata, questa è la traduzione letterale, quindi di aver ascoltato da tutti, che l'avevano lanciata in comune, che cosa avevano lanciato questa voce, questa, questa frase, questa voce, diciamo, che l'avevano lanciata in comune, e, naturalmente in italiano non è bella, quindi, ricordava a me di una voce, che diceva di aver ascoltato da tutti, che l'avevano lanciata in comune, forse in italiano è meglio dire una voce, che diceva di aver ascoltato, lanciata in comune da tutti, se non altro per una bella forma italiana, però grammaticalmente, sicuramente, pro e menon, si concorda con panton, in comune, e in che occasione, entò agoni, durante le feste, ton paranzinaion, delle panatemie. Lef senta men gar tinaton, politon, agasai paraton, agono seten, oti, bapton, econi, mation, et se orei, tus dei donta, se leesei, te, cai, parateistai, cai, tus cerucos, an ei pontos, oti, paraton, nomene, poesene, toiauta, esteti, omenos, anaboesai, miafone, pantas, osper, esce, menus, su nomen, aponemen, autò, toiauta, ge, ampe, comeno, me, gar, eken, auton, etera, allora vediamo subito i verbi, lef senta, il primo è lef senta che è un participio dell'oristo passivo di lambano accusativo maschile singolare, poi abbiamo agestai che è un infinito presente medio passivo da ago, poi abbiamo econ che è un participio presente nominativo maschile singolare da eco, ezeoreie che è un indicativo imperfetto di zeoreo, terza persona singolare, idontas, participio dell'oristo di orao, accusativo maschile plurale, eleesai, infinito dell'oristo attivo di eleo, poi parateistei, infinito presente di paraiteo, anepontos è un participio dell'oristo genitivo maschile singolare, e poi osene è un indicativo dell'oristo terza persona singolare, attivo, poi abbiamo seomenus, participio presente di zeaomei, nominativo maschile singolare, anabaoesai è l'infinito dell'oristo di anaboau, attivo, eskemenus è il participio del perfetto di scheptomei, accusativo maschile plurale, aponeimein è l'infinito attivo di aponeimo, poi abbiamo ampecomeno che è un participio d'attivo maschile singolare di ampeco, ampecome, poi abbiamo ekein che è un infinito presente di eco e poi basta. Allora vediamo se ci sono delle cose che ci fanno pensare a delle subordinazioni, riconosco oti che abbiamo già incontrato, quindi o congiunzione dichiarativa o congiunzione causale, oppure anche la forma attaccata di ostis, ancora riconosco un tucherucus e techerucus in genitivo insieme ad un aneipontos genitivo, quindi posso pensare che possa essere un genitivo assoluto, ma non ne ho la certezza, fin quando non lo metto alla prova. Poi abbiamo oti che ancora è come sopra una congiunzione o dichiarativa o causale o ostis attaccato, poi abbiamo un ospe, notiamo anche ospe, poi abbiamo degli infiniti che naturalmente ci fanno parlare della infinitiva. Allora, la frase comincia con un infinito qui a che stai e qui un participio, quindi è chiaro che questa infinitiva messa subito all'inizio di periodo e sottintende un diceva che, quindi il filosofo che sta parlando con Luciano, diceva che, quindi raccontava che, allora un Tinat, uno, Tinat e un Politon, uno dei cittadini, l'Epsenta, quindi arrestato, Lambano qui nel senso proprio di prendere e di arrestare, e quindi arrestato. Agestai veniva condotto, Paraton Agonoseten, dal giudice dei giochi, e adesso qua si spiega la ragione perché era stato arrestato, perché Ezeorei, quindi assisteva, qua è proprio nel senso di assistere alla festa, quindi perché assisteva alla festa, e con, avente, oppure si può mettere anche semplicemente con, un Imation, con un abito, Bapton, Bariopinto. Tusde e quelli, i Dontas, avendolo visto, e le Esai ebbero pietà di lui, e paraitestai, e reclamavano, quindi intercedevano per lui, e tu cherucos aneipontos oti, quindi e poiché l'araldo, cherucos viene da cherux, che vuol dire araldo, poiché l'araldo diceva, quindi abbiamo subito scoperto nel flusso della traduzione che il genitivo assoluto va benissimo, e assume facilmente il valore causale, poiché l'araldo diceva oti che, e poi a sen, aveva fatto, quindi aveva agito, Paratonnomon contro la legge, Zeomenos assistente allo spettacolo, ento iauta esteti, in si fatta veste, quindi in una veste del genere, quindi quella veste Bariopinta, e Pantas, tutti, Anna Boesei, si misero a gridare, qui va benissimo dare a questo infinito dell'Auristo un valore aggressivo, quindi si misero a gridare, miafonè, ad una sola voce, osper escemenus, come se si fossero precedentemente preparati, questo vuol dire, come se si fossero precedentemente preparati, si misero a gridare a Puneemain di concedere autò a lui, quindi di concedergli subnomen e perdono, quindi di concedere perdono a lui, a lui, concordato con a lui, è empecomenu, quindi toyauta, cioè se si era messo addosso toyauta dei vestiti del genere, proprio perché si era messo addosso dei vestiti del genere. Infatti, Gar, lui, questa persona, me e che ne e tera, non ne aveva altri, quindi lui, quindi loro spiegano che lui è stato costretto a mettersi addosso a questo costume vario pinto, perché non ne aveva altri, quindi infatti, lui, me e che ne e tera, no e tera, etera ho detto male, scusate, non ne aveva altri. Tautate un ebenei, che i prosetti ten e le userian, ten e kei, che i test di aites, to an epizionon, esuciante kei a prakmusionen, ad e afton a parautoise estin. I verbi sono ebenei, che è un indicativo imperfetto di eba in eo, poi abbiamo estin, estin, soltanto estin, indicativo presente, terza persona singolare, verbo essere. Per quanto riguarda gli elementi subordinanti, noto la presenza di a, che è un pronome relativo, no, qua ho detto un po' troppo, che è un pronome relativo neutro plurale, nominativo o accusativo neutro plurale. La traduzione sarà un, dunque, epe, epeineo vuol dire lodare, quindi lodava tauta, sarebbe lodava, tra queste cose, quindi questi fatti, queste caratteristiche del popolo atenese, che ha i prosetti, e inoltre, sempre lodava, tenere euzzeria, la libertà, quale libertà? Tenechei. Quindi, notate, tenere euzzeria, tenere chei, questa è la classica posizione attributiva, sarebbe la libertà di là, quindi la libertà, non mettiamo naturalmente nella traduzione la libertà di là, perché in italiano è orribile, diciamo, la libertà che si gode là, che si gode in quella città, kai to anepipsonon, sarebbe l'essere privo di invidia, tese di ai, tese del loro modo di vivere, quindi è bruttissimo, questo è un aggettivo neutro sostantivato, l'essere privo di invidia, del loro modo di vivere, brutto, diciamo, il loro modo di vivere, privo di invidia, quindi scevro di invidia, poi è la tranquillità, sempre lo dava, la tranquillità, è la apramusunen, è la quiete, o è a, quindi sarebbe cose che, eliminiamo sempre cose che mettiamo beni, che, visto che sono comunque degli elementi positivi, va benissimo la parola beni, beni che sono, ricordiamo che il verbo per il neutro plurale è al singolare, che sono presso di loro afzona, che sono copiosi presso di loro, de appunto, quindi che sono appunto copiosi presso di loro. Bene, un'altra versione di Luciano si è conclusa. Ciao ragazzi.